Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In A11 rallentamenti per una perdita di carico tra Lucca Est e Capannori in direzione Firenze. In A1 tratto chiuso per lavori tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni fino alle 14 di oggi. In FIPILI per lavori di manutenzione sulla Scarpata, chiusura delle rampe d'ingresso e di uscita dello svincolo di Ginestra Fiorentina in direzione Livorno fino alle 19. Per la viabilità cittadina a Firenze è cambiata la viabilità in Piazza della Libertà e Via Lorenzo il Magnifico. I provvedimenti rimarranno in vigore anche una volta realizzata la nuova linea della tramvia. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!